Clamoroso, nonostante la separazione Mauro Icardi e Nara sono alle Maldive insieme, guarda. Vanda Nara, intervistata da Vanity Fair, dice che è finita con Mauro Icardi, nonostante lei voglia ancora molto bene al 29enne. L'argentina ammette che non è stato il tradimento del calciatore a causare la rottura. Ma la sua voglia di indipendenza, desidera tornare a lavorare in tv e all'attaccante questo non fa piacere. Poche ore dopo però il social di entrambi racconta qualcosa di clamoroso, nonostante la separazione ormai firmata. Maurito e Vanda sono alle Maldive insieme. Tutti si domandano se i due ormai non si divertano a finire al centro dei gossip con gli infiniti tira e molla, che vanno avanti da un bel po'. Icardi si fa vedere nella paradisiaca isola dell'Atoll dell'Oceano Indiano, in un resort extra lusso. Risponde a qualche domanda dei fan e spiega di essere volato al caldo, approfittando della pausa di campionato per il mondiale che sta per iniziare in Quatar, per rigenerarsi. È uno dei nostri luoghi preferiti nel mondo per riposarsi e disconnettersi dalla routine e poter ricaricare le energie. Scrive. I follower gli domandano se sia solo, lui rivela che non lo è. Basta andare sul profilo della Nara per capire che vanda. Seppur non ci sia alcuna foto in coppia condivisa, è lì con lui. Maurito mostra solo le gambe di quella che ora dovrebbe essere la sua ex moglie. Stesa fuori dalla villa dove alloggiano a prendere la tintarella. Sono alle Maldive senza i cinque figli della 35enne e al seguito, separati e felici. Parrebbe di sì, la sua popera riguardante la coppia si arricchisce di un nuovo capitolo. Parrebbe di sì, la sua popera. Parrebbe di sì, la sua popera.